Questa è la prima marmellata che faccio con i legumi e devo dire che sono molto soddisfatta. Sono Pam e questo è il mio canale, sana, veloce, vegetariana. Ceci cotti, zucchero di cocco, foglie di menta, succo di mela. Frullando questi pochi ingredienti avrò una marmellata di ceci. Buona, ma ci vuole ancora un po' di succo di mela. Eccola qua pronta. Si può mangiare al cucchiaio o spalmata sul pane. Tosterò nel forno queste fette di pane. Alla marmellata ho aggiunto solo un po' di mela pezzetti per una prima colazione sana e nutriente. Grazie. 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 Grazie.